Sto montando il nuovo vlog e Luis mi sta insegnando due dritte che io ero rimasto ad After Effects e in realtà adesso con Final Cut puoi fare tutto e vi dico solo, vi do solo un'anticipazione sappiate solo che nel video ci sarà questa scena Buon appetito amici, buon appetito Ho finito di montare il vlog della Sardegna, vi anticipo una scena Pagaglia? Pagaglia? E beh, mi sembra ottimo come prima parola di insegnarli Pagaglia Dai prendilo amore, dai, dai, ma sei pirla Io sto provando il vlog Chi è? Chi è amore? Siamo noi? Silvio a Porto Cervo 2018 Amore, l'hai visto? Ride solo nelle scene dove c'è lui comunque Ridi solo quando ci sei tu amore Chi è? Sei tu? Grazie Matti, è un momento Ma sei scemo? Ma sei cretivo? Il problema di quando fai gli scherzi, caro Luis, è che poi, capito, adesso non potrai dormire te sereno No, ma non è prank, mi hai lanciato uno scarafaggio sulla schiena, ma ti rendi co... Vabbè, ma che schifo, porca troia Vabbè, ma che schifo, porca troia Ma... 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 ma...